Buongiorno, 2023, da Volpiano e da oltre 300 km di distanza giunge forte e nitido il segnale di una nottolini ritrovata e a dir poco clamorosamente forte. Tonica e bella, eppure la serata sul campo della capolista pareva dovesse trasformarsi in un'altra sconfitta, stavolta meno fragorosa rispetto a quelle quattro consecutive che hanno macchiato l'ottimo avvio stagionale della squadra bianconera. Ma stavolta, appunto, coach Capponi ha cesellato il suo piccolo grande capolavoro tattico, sovvertendo un pronostico e una partita che dopo il primo set, vinto 25-21 da Volpiano, capolista del campionato e rullo compressore tra le muramiche, sembrava già definito e finito. Nulla però è impossibile fino a prova contraria e così poco alla volta Trevisiola e compagni risalivano la china trovando forza e morale e un gioco a tratti scintillante. Volpiano pareva annichilito e sorpreso, quasi alle corde. Il 25-20 del secondo set dava grande fiducia alle capannoresi, ma gli altri due set, dominati a 17-18, sancivano un risultato a sorpresa solo sulla carta, non certamente per quello che ha detto il campo. Sugli scudi, in modo assoluto, una fantastica Alessia Sgerza, top scorer di serata, seguita da una sontuosa Giulia Lunardi, ma tutta la squadra è delogiare con la difesa di una super battellino e gli attacchi spesso micidiali di Bruni e Fatone, quest'ultima classe 2005, ma a dispetto della carta d'identità con l'atteggiamento di una veterana. Tre punti d'oro pesantissimi e strameritati, che conferiscono straordinario morale a tutto il gruppo. Sabato prossimo, quando potrebbe esserci anche Martina Mastronardi, attesa a Capannori nelle prossime ore, altro grande match. Al palapiaggia calerà infatti la seconda della classe, il parella Torino. E allora, perché dopo aver domato la capolista, non giocare un brutto scherzetta ad un'altra grande?